Auspiti, auspiti in certi spessori. Dopo l'ultima manifestazione, ritroviamo il gendario De Crocesa, anche qui a Salerno, da 21 anni. Sì, sicuramente è un evento di qualità. Mi hanno detto che da parecchi anni ritorna qui e soprattutto si sta bene. Mi hanno detto che saranno delle impostazioni, momenti musicali, momenti di imitazione, momenti tuoi che saranno il passaggio giustamente. E' stata per tutto. Quindi è piacere di avervi qui, anche le telecamere, sicuramente. La Fata Quattro ha mantenato questo grande, grande del posto. Qui al centro di Salerno, sembra stato. Invece a Salerno c'è una piccola realtà che sta proprio in centro. La Fata Quattro, c'è un'ombra di Natale bellissima, le luci di Salerno, famose in tutto il mondo. E quindi, sicuramente, stare in questa serie di funzioni. Diciamo che noi oramai siamo veterani, è il quarto anno che veniamo qua, quindi è un evento che oramai è diventato accadenzato. E allo stesso tempo con questi sonaggi di intervento da Salerno, perché è una realtà diversa e molto accettabile. E' una realtà che fa bene all'atima, soprattutto alla musica, in quanto comunque queste riunioni, in questo periodo problematiche, oggi stare anche 20, 10, 15 persone, tutti quanti insieme, è una vittoria. Quindi è una vittoria che ce la portiamo sempre con noi e soprattutto con la speranza di essere poi 200, 300, 400 e così via. Perché dopo lo spettacolo ho fatto la mente, dopo il 5 dicembre, tu sai che le restrizioni sono aumentate. Adesso stiamo aspettando il buon Natale, il buon Capodanno per poi entrare in questo 2021, sperando Rosio per tutti. Perché io vedo sempre possibilità anche per gli altri, non solo per me stesso, soprattutto per la musica, soprattutto per voi che fate i nostri servizi. E soprattutto chi porta parte in generale. Quindi aspettando questo 2022, speriamo insomma questa grande serenità e soprattutto un giudoloso. Grazie a Gennaro In Crescenzo, lo ascolteremo durante la serata. E quindi adesso auguriamo il futuro. Buon Natale, seguite su 862 Digital Terrestri. Grazie.